Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di XMX11 allora ragazzi oggi vediamo come fare la missione pesca un oggetto da un motoscafo che ci dà la bellezza di 20.000 punti esperienza detto ciò partiamo let's go ragazzi per fare questa missione ci possiamo regare in qualsiasi punto in cui c'è sia il motoscafo che anche un qualsiasi punto pesca che sia un lago o una pozza io per esempio sto scendendo qua accanto alla casa del dottor Tony Stark qua scenderemo in maniera prepotentissima cerchiamo intanto un motoscafo che ce l'abbiamo in questo caso accanto ci prendiamo una bella canna da pesca e pescheremo da sapere il motoscafo una missione davvero facile che si fa in un battere d'occhio pure allora innanzitutto come ho detto prenderemo una canna da pesca saliremo a bordo del nostro motoscafo in questo caso andrò dove c'è una pozza metterò qua sopra lancerò la canna da pesca e pescherò e prenderò 20.000 punti esperienza davvero davvero easy ragazzi detto ciò se vi è piaciuto il video vi invito sempre a lasciare un bel like e iscrivervi al canale ciao ragazzi ciao ciao ciao